E allora eccoci rientrati, abbiamo parlato di giovani nella prima parte, un'esperienza che accomuna tanti giovani sono i city camp che sono incominciati proprio quest'oggi nei campi del Dino Bruseschi. Abbiamo visto le immagini in apertura, un'esperienza che coinvolge i giovanissimi che vivono una settimana sul campo, tante sono le attività non solo di allenamento ma anche la parte ludica, ovviamente è tutta una serie di attività da vivere insieme, una giornata intera per tutta questa settimana sono tre turni, quindi questo è il primo turno, vediamo tanti ragazzi, sono maschi ma anche ragazze, quindi insomma tutta una situazione divertente ma anche di apprendimento. Vedere tante ragazze, anche sai per un certo tipo di discorso del calcio femminile. Sì, per far capire che insomma il calcio è... Pensa che la Juve quest'anno fa ha già aderito praticamente al campionato femminile, fa una squadra di calcio femminile. Siamo presi del Cuneo, no? Sì, hanno rilevato il Cuneo calcio e ha preso i diritti per fare la squadra professionistica. Bene, vedremo sicuramente perché ogni sera alle 20 ci sarà un approfondimento, uno speciale dedicato ad ogni giornata di questi City Camp che vede coinvolti tutti questi ragazzi. Una bella iniziativa Max, può che fare con i giovani sempre. Una cosa eccezionale, dopo è bello perché come viene fatto con gli istruttori, dopo vedi che ci sono anche istruttori di un certo nome dove li insegnano ed è bello perché li fanno approcciare questi ragazzi al calcio. C'è qualcuno che invece arriva anche per perfezionarsi e poi è bello vedere tutti questi ragazzi che si buttano sul campo, che li fai giocare perché il calcio a quell'età lì è bello proprio perché devono imparare tutto attraverso il gioco. Imparano a fare squadra perché non ci sono solo ragazzi che trovano a calcio, ma inizia anche ad entrare nel sociale. È un'emozione incredibile per questi giovanotti qua e io ogni volta che parlo del City Camp ogni anno dico se avessi avuto la possibilità 60 anni fa di andare in City Camp sarei andato di corsa perché sarebbe stata un'avventura indimenticabile. Perché quella volta non si facevano questi… 60 anni fa andavete in Colonia, non andavi a City Camp. Non andavi in Colonia, ma se ci fossero stati i campus delle varie società sarei andato perché credo sia un'emozione unica, un'avventura incredibile. Lo dimostra il fatto che c'è sempre tutto isolato nei City Camp organizzati da Rubinese. Con largo anticipo questo primo tour. Vuol dire che la risposta è quella che si attendono i genitori oltre che i bambini e sono tutti entusiasti. Ti ripeto, è un'emozione unica che fa bene anche dal punto di vista sociale. Ci sono tecnici, come diceva Massimiliano, professionisti. Sono seguiti, rimangono dalle 8.30 del mattino fino alle 17.30. Sono seguiti come un'ombra da personale qualificato. Ci sono a disposizione anche eventualmente i sanitari. Non è mai successo per fortuna. Ma chi va nei City Camp, io li seguo ormai perché questo credo sia il numero 13 da quando l'Udinese li ha organizzati. Prima c'erano anche i campus. Quindi da 13 anni sono 13 anni di successo. Io ho parlato anche con molti genitori che hanno mandato i loro bambini. Sono tutti entusiasti. Tutti soddisfatti. A proposito appunto di questa completezza... Anche perché si liberano dei bambini, stanno liberi tutti i giorni. Questa è una chiave di lettura, Franco. È una chiave di lettura non da poco. Franco, guarda che ci sono molti bambini che vogliono ripetere questa emozione. Ma è bello per questo. Sono arrivati i bambini che l'hanno già vissuta questa esperienza. È bello per questo. È bello anche perché poi i genitori li lasciano e vanno via, devono andare via. Non devono rimanere lì i genitori. Però vogliono assistere anche loro, vengono lì dietro la rete. No, il genitore deve imparare a lasciare i bambini e andarsene via. Lo porta alle 8.30 e alle 1.00 e alle 5.00. È una chiave di crescita comunque anche questa. Per cui è davvero completa come cosa, anche da un punto di vista dell'autonomia. Ho capito, ma Alice, la navina dei bambini, dei ragazzini, sono i genitori. I genitori devono mettersi da parte perché tutti quanti, quando vedono il Maradona, il Zicco, il Platini, il Baggio, la Compagnia Bella, il genitore deve lasciarlo all'istruttore. Questo è un po' un problema di tutti gli sport. E ho capito, non è tutti gli sport. Quando i genitori si... Nel caso a livello giovanile, le domeniche, tu vai a vedere le partite, sono tutti i genitori a vedere queste partite e se qualcosa non va, un allenatore toglie il proprio figlio, e il proprio figlio apre il cielo. Tutti allenatori diventano. Io capisco che vogliono seguire il figlio, capisco tutti, però dovrebbero seguirlo, accettando tutto. Perché un allenatore interviene... Seguido un anno, nel settore giovanile di Donatello, tanti anni fa, ai genitori gli dissi, ho fatto una riunione, perché tutti quanti si lamentavano fuori, lo sentite. Ho detto, questo è Fischetto, venite ad abitare le partite giovanili amichevoli e vediamo cosa... Ci hanno provato una volta, poi non ci hanno provato più. Bisogna prendere delle misure drastiche. E allora, queste esperienze appunto servono ai nostri ragazzi anche per una crescita da questo punto di vista. Chiusa la parentesi City Camp, che ovviamente continueranno nelle prossime giornate, le seguiremo appunto, vi ricordo, alle 20 ogni giorno. Torniamo a parlare di mercato, visto che è il tema caldo del momento. E da casa Stefano... Chi c'entra avanti? Di chi parliamo? Di chi c'entra avanti del futuro? Eh, di chi c'entra avanti parliamo? Allora, sale la quotazione... Ce li abbiamo tutti. Allora, argomento a scelta, di chi vuoi parlare? Tutti quanti. Pavoletti, vediamo le immagini di Pavoletti. Ecco qua. Questo è l'argomento caldo, perché oggi si è... Vidmer e Meret per... Offerta monetaria da definire e Pavoletti. Lo faresti sì o no? Ma io lo vorrei sì, ma il problema è l'ingaggio. I soldi... Se penso... Se Napoli paga un po' i soldi che prende il ragazzo, puoi anche fare 50-50. Però io credo che l'ingaggio di Pavoletti sia un po' troppo alto. Ma questi però fanno gli infortuni di Pavoletti o... No, perché come l'attaccante mi piace di più di tutti i nomi che sono stati fatti, perché vedo quel realizzatore d'aria che all'Udinese è mancato dopo Totò di Natale. Anche perché è il giocatore che secondo me ti porta nella doppia cifra. Fra tutti, a me piace, l'avevo detto anche l'altro lunedì, come giocatore mi piace più questo qui. Se lo scambio è quello lì, un Meretti in prestito, un cambio con Vidmer, per un giocatore lo farei. Quest'anno tre gol, Pavoletti. Falcinelli ha fatto i 13 qui. Falcinelli ti piace? Ma Falcinelli, adesso le piace. Quando un giocatore è reddice da una buona stagione, vorremmo prenderlo. Io, Falcinelli, posso dire che ha fatto bene quest'anno. Negli anni scorsi non era giocatore da Udinese, era così, un giocatore. Allora, se il sassuolo, che è proprietario del cartellino di Falcinelli, mi chiede 9 milioni, io il sassuolo gli dico, tenetevelo. Giusto. Cosa? Quando prende Falcinelli e spende 9 milioni? E dopo dagli magari a lui un milione? E mi risolve i problemi Falcinelli? Non risolve. Allora, io per esperienza, ti dico, per esperienza, conoscendo un po' il mercato dell'Udinese, quando si fanno i soliti nomi, Pavoletti, inglese, Falcinelli, tac, tac, arriverà un altro. Arriverà un altro perché l'Udinese, l'Asia, che ognuno dica quello che vuole, ed è giusto che sia così, perché quando si fa mercato, ognuno dice, arriva a Tizio, arriva a Caio, ma io sono convinto che arriverà, perché l'Udinese sta setacciando da sempre, e secondo me fa non bene, benissimo, il mercato mondiale. Io credo che l'organizzazione che fa capo a Gino Pozzo, ci sono procuratori, ci sono osservatori, ci sono dirigenti, probabilmente ha già individuato il prospetto, per l'Udinese, e non credo che sia il signor Pavoletti, che ha un ingaggio elevato, non da l'Udinese, non si possono correre il rischio di infrangere equilibri fragilissimi all'interno di uno spogliatoio, dando un ingaggio elevato agli altri, e lasciando inalterati gli altri, perché allora dicono, bene, Pavoletti, segna te, noi stiamo a guardare, perché c'è anche questo nel calcio, perché sai, dopo se lo spogliatoio storge il naso, allora non è più compatto. Non è facile trovare il giocatore, però io sono convinto che rispetto allo scorso anno, per l'Udinese questo non è la stagione che inizia l'anno zero, ma è l'anno uno, perché l'Udinese ha bisogno di pochi ritocchi per essere competitiva, l'intelaiatura è robusta, non scordiamoci che è già stato preso un certo Barac, è stato preso anche Lasagna, non dico che Lasagna partirà titolare, sono stati presi alcuni giocatori, se la gioca, però sono degli innessi, se la gioca quindi arriverà la punta centrale, secondo me la punta centrale e due esterni, due terzini, due esterni bassi, perché nel centrocampo che è il settore, che è il settore fulcro, io dico, vedo in questo momento il centrocampo è composto da Bali, Fofanà, Ianto, Alfreson, Badu, De Paul, ma qualcuno andrà via? No, sette, non so se vanno via, siamo già a sette, arriverà un giovane, evangelista, che ha dimostrato nelle ultime partite che non è uno sproveduto, quindi l'udinese nel mezzo è già a posto, prendere un giocatore migliore di quelli lì, credo che per l'udinese sia impossibile, deve costruirlo, deve prendere un giovane, avere il fiuto di prendere il giovane giusto, costruirlo, sperando che diventi giocatore, se è già affermato, prendere uno migliore di quelli lì è impossibile, perché devi spendere 20, 30 milioni, quindi l'udinese nel mezzo è già a posto, serve la punta, e secondo me uno, due terzini. La punta, una che costa poco, e che tra l'altro ha giocato con la Sagna, un buon gregario, magari può trovare quest'anno una buona linfa, lo danno in salita inglese, questo? Salita la quotazione inglese. Non mi entusiasmo, sinceramente. Anche se comunque riuscite a fare dieci gol quest'anno, con il suo, non sono pochissimi, ma è Terry, invece non è mai sul mercato, non niente. Chi? Quello del Pescara, il Pescara. Da me non viene accostato a niente. Però di Terry non si parla. Per me? Ecco, bravo. Quindi dice che potrebbe in realtà essere. Io devo stare zitto, perché personalmente, giovane, grande fisicità, la porta c'è, logicamente va allenato, però... Perché è giovane. Sì, è giovane, è grezzo, è grezzo da sgrezzare ancora. E' facile parlare di Falcinelli, che li hai già visti. Tra inglese c'è rientro di Paloschi, quindi potrebbe essere un... Questa è una motivazione in più per la quale... O secondo voi no? Tra inglese e Paloschi, io preferisco inglese, adesso che rientri Paloschi... E poi il discorso è sempre il solito. Cosa costa inglese? Guardate cosa costa. Cosa costa d'ingazzo inglese? Insomma, L'Udinese è attenta, giustamente è attenta anche a queste cose qui, perché se non fosse attenta, a quest'ora probabilmente non sarebbe in seria. Quindi allora la vista dei nomi è il più economico, tra virgolette. Allora deve prendere un giovane. Ma l'ha sempre fatto un giovane. Oppure, oppure, ha preso anche dei giovani in passato L'Udinese. Io ricordo, L'Udinese, il capolavoro di Gino Pozzo, quando ha preso Amoroso, era un giovane. Era un giovane che per tutti era finito, perché aveva avuto... Sì, ma il giovane è già fermato. Era Reduz da un anno di inattività. Non perché si era fatto male a Ginò. Appunto, era Reduz da un anno di inattività, per molti era un giocatore già finito. Gino Pozzo ha detto, io scommetto su quello lì, è diventato un giocatore importantissimo, e l'Udinese ha fatto l'affare del secolo, poi vendendolo al Parma. Sono questi i colpi che deve fare l'Udinese, non prendere Pavoletti, magari dopo arriverà Pavoletti, ma secondo la filosofia della società, non può l'Udinese andare a spendere 10 milioni per un giocatore? Secondo me farebbe una pazzia, almeno che questo giocatore non avesse la certezza, ma nessuno garantisce la certezza, di essere veramente un giocatore in grado di segnare 15 gol minimo. Se hai questa certezza, allora andiamo a spendere 10 milioni, ma nessuno ti dà questa certezza. Tra l'altro, a proposito di giovani, hai parlato di un centrocampo guido già composto, effettivamente sette nomi, chissà se ne andrà qualcuno, come diceva il barone, si parla come al solito di Badu, che c'è l'interesse della Lazio, però è in canna anche un colpo importante, che porterebbe al nome dello svedese Ingelsson, anche qui parliamo proprio di giovane, giovane, classe 98, che potrebbe essere. Ma quello che lo arriva, però stiamo parlando di uno svedese, dice a nove anni, viene lì, lasciamo che cresca, imparerà, è il classico giocatore preso in prospettiva. E da casa? C'è qualcuno appunto che risolva i problemi. No, adesso stavamo parlando di giocatori in grado di essere utili da subito. Utili da subito ne abbiamo già sette, dopo arriverà qualche giovane, dimenticavo, Stefano mi ha fatto appunto, mi ha ricordato il nome di Ingelsson, che sarebbe l'ottavo, arriverà anche un nono, ma sono giocatori che sono lì per imparare, per ambientarsi, per essere utili tra un anno. Chi è il nono? Non lo so, anche il decimo arriverà. E da casa Stefano, qual è il nome che c'è parlato? L'ultimissimo messaggio parla adesso, ma ho già letto un articolo che c'era stato questo interessamento per Giovanni Simeone, che sarebbe sicuramente un giovane, ma anche lì siamo già su cifre importanti perché ha fatto una grandissima stagione. Ci parlavano invece di giovani che rientreranno dai prestiti, il solito Cristian, che è sempre molto attento ai giovani, già di Coppolaro e Rovini, difficile immaginarli titolari, anche se forse dei neri su Coppolaro un pensione non potrebbe farci. Abbiamo fatto abbastanza bene, ha meritato anche la conflucazione nazionale, ha giocato abbastanza bene, direi che un'opportunità vi si può anche dare a sto ragazzo. per un centrale, per un centrale, per un centrale, per un centrale, anche in difesa magari qualcuno potrebbe lasciare spazio. Dico Rovini, che l'abbiamo conosciuto anche a Pistoia, è allenato anche a Pistoia, che lui rientrava da un'opportunio, però è un giocatore interessante, è un giocatore che sa fare la seconda punta, sa fare la punta esterna, se giochi con una linea a quattro, sa giocare molto bene con questo piede mancino ad incrociare, sei... ma hanno già giovani, hanno male, hanno male, hanno evandro. Sì, ecco, vai a prendere sempre quella tipologia di giocatore lì. Se prendi Rovini e non gioca, è meglio parcheggiarlo altrove, dove ha la possibilità di giocare, presupposto, unico presupposto, per diventare giocatore, per sperare che diventi giocatore. E qui sicuramente quando arriva, prima di prendere il posto, per dirti a Janto o a Depol, perché quelle posizioni lì si lo metti sulla linea dei centrocampisti, però molto offensivo, se invece lo metti come seconda punta, sai, deve anche lui... Ecco, quello potrebbe essere una scommessa, però è un giocatore interessante. E per alcuni giocatori, il periodo che va dal 6 luglio al 14 dello stesso mese luglio, quando... Un banco di pro... Esatto, quando l'Udinese terrà la preparazione qui al Brugeschi, e saranno organizzate anche degli amichevoli, credo che in quei nove giorni Del Neri visionerà soprattutto... Inquadrerà la situazione, ci sono anche alcuni che ritornano dal prestito, potrebbe essere appunto Coppolaro, potrebbe essere Rovini, poi potrebbe essere anche qualche altro giovane che ha acquistato adesso e dice no, preferisco che venga ceduto in prestito in un'altra squadra, piuttosto che sia qua, perché qui non è pronto per giocare. Perché qui la rosa, non dico che sia già a posto al 100%, ma la squadra ha l'88%, il 25% non le puoi mettere... Abbiamo detto, centrocampo a posto, come appunto hai detto anche tu, serve risolvere questa situazione del buco creato da Zapata, per quanto riguarda Terzini, si è fatto il nome di Giuseppe Pezzella del Palermo, che potrebbe andare a sostituire Adnan, questo è un altro nome. E' un altro nome che costa, perché è un altro nome che costa, però sembra un interessamento... Barrega, ci sono anche Barrega, sono tutti due nazionali Under 21, se ne è parlato sicuramente, non c'è solo l'interessamento udinese, ma anche tante altre squadre. Sì, c'è anche l'interessamento del Napoli, infatti, di Pezzella, quindi è abbastanza gettonato come giocatore. Però il Napoli non giocherebbe, a Udine sicuramente la posizione... Potrebbero, Franco, potrebbero prenderlo anche in prestito con diritto di riscatto, eventualmente. Si parla di Palermo anche di Lesteroski, no? Si parla anche, esatto, ci sono tanti nomi. In realtà si parlava anche di Giaialo, esatto. Giaialo, quindi adesso ci fanno solo tanti nomi. Un minestrone di nomi in questo calcio mercato, in questa fase. No, per sé è un ottimo nome, è un nome, è un nome, è un peso più in alto della lista per l'agliatore. è un ottimo nome. Al di là di tutto, ovvio che le urgenze siano il numero 9 e la questione del portiere, ma l'Udine sicuramente... Però quest'anno tu, Samir, non ce l'avevi, ti è mancato, eh? Questo vero giocatore, hai sempre adattato un giocatore lì, eh? Visto che si è parlato di Pezzella, però a questo punto ci agganciamo all'Under 21, perché ha fatto un esordio buono, difficile, come al solito, con le squadre, come la Dani Masi. Buono come risultato, non come gioco, non come prestazione. E c'è stato lo splendido gol di Pellegrini, tra l'altro possiamo anche vedere i gol dell'Italia, perché bisognerà sudare comunque fino in fondo per arrivare al finale. Guarda, io ho visto, l'ho viste tutte le partite fino ad adesso, a me mi ha impressionato la Spagna, io ho visto Asensio, Real Madrid, ha fatto tre gol. E infatti te ne volevo proporre, chieda la regia, abbiamo fatto un doppio passo, se riusciamo a mandare le immagini della Spagna, è che Asensio ha fatto, ha fatto delle cose. ma ci ha scherzato, ci scherzava, è una cosa che giocava con Siglo in bocca questo qua, veramente una colma impressionata. Tra l'altro c'è questa retroscena che il Vercelona l'aveva un po' mollato e si è casato al Real Madrid. Qui tra l'altro il primo gol lo fa Saúl, un altro giocatore fortissimo, un atletico Madrid. Il portiere così così, però la rovesciata è pavolosa, davvero molto bella e poi inizia l'Asensio Show che fa una tripletta, tra l'altro con tre tiri da casa sua. da manicomio. Eccolo qua. Guarda, questo sbagliato, è qui è il primo. Inizia lo show qui, è veramente destro, sinistra, tutta l'altro, ma c'è anche Deleufeu protagonista con questa spagna. Deleufeu non c'entrava niente. La regia se lo perde quasi, quindi il tiro di Asensio. Il giocatore del Milan non c'entrava niente con l'attacco, era il più scarso di tutti. Questo quindi diventa il nuovo fenomeno mondiale. Questo qui è un fenomeno, ragazzi, ma mi ha impressionato. Questo non l'ho visto. E la Spagna quindi vince l'Europeo? Non lo so, ma è sicuramente una delle candidate, perché ha dei giocatori. E Asensio praticamente ha vinto da solo questa partita. Beh, c'era comunque la Macedonia contro. Ho capito, però con la facilità che lui ha le giocate, che fa. Ti ho detto, questo qui è impressionante. Ecco qua, adesso arrivano le due perle di Asensio. Non so se l'hai visto, ma ragazzi... Avete visto? Ecco, questa è imbarazzante praticamente. Guarda qua, per la facilità con cui riacciamo. Qui gliela deviano anche la palla, però ragazzi, guarda che... Salta l'uomo sempre. Su dieci volte lo salta undici. Ti metti sempre in difficoltà. È una cosa impressionante. Non pensa anche in che squadre già giocano. Sì, ma questo è giovanissimo. Con quale importanza nel club dove... Ha fatto il gol. Nella finale ha fatto quello del 4-1, era una Juve. Ha segnato anche con la finale. Guarda qua, quando era entrato con il Barcellona, non è di che aveva fatto la differenza per arrivare al 2-2. Guarda qua, la mette dove vuole. Diciamo che ci metterà in difficoltà questa Spagna senza altro. La nostra nazionale ha vinto 2-0, ha vinto meritatamente, però il primo tempo mi ha deluso. Male. Sì, perché mi aspettavo qualcosa dai giocatori cosiddette stelle, sia Bernardeschi che Berardi. mi aspettavo qualcosa di più di questi due. Le aspettative erano alte, comunque si è parlato di una delle under 21 più forti degli ultimi vent'anni. Invece Bernardeschi ha giocato bene negli ultimi 20 minuti quando è entrato Chiesa. Chiesa ha dato una scossa. Berardi praticamente non è pervenuto mai. Non è riuscito a dirgli. Però finalmente siamo a Petagna. Chiesa. Che è in campionato la finale di Petagna. Petagna ha fatto un gioco da solo davanti, ha tenuto tutto l'attacco. Poi il Signore l'ha premiato perché ha fatto anche il gol. da centravanti vero. Chiesa, bravo. Però Chiesa è quello che ha spaccato la partita. Prima di pensare alla Spagna c'è l'ostacolo Germania che abbiamo l'immagine. Grande gol di Pellegrini. Pellegrini ha fatto un gol incredibile. E lì ha sblocato il giocatore però come gioco la partita Chiesa è quello che mi piace. Come gioco se io devo dire in questo momento la Spagna è quella che mi ha fatto divertire. Quindi la Germania che vi proponiamo l'immagine. Non l'ho vista la Germania contro la Repubblica cieca di Ianto che ha giocato 90 minuti è stato ammonito ha procurato un calcio di vigo. Ha fatto il primo tempo a sinistra il secondo tempo l'ha sportato a destra. Non mi è piaciuto. Tre punti fondamentali comunque per l'Italia perché ricordiamo il passaggio alle semifinali tra l'altro è solo per le prime dei gironi e della miglior seconda. Quindi sono tre punti importanti. L'Italia comunque non è male come squadra. Sì però devono giocare in un altro modo Guido. Ma la nazionale italiana ultimamente non l'ho mai visto giocare bene bene bene. È così il calcio italiano. Io parli della nazionale ma qui parli i giocatori. Beh la Danimarca si è messa comunque quegli uomini in difesa. È la classica spagna. Parlavamo che in prospettiva ti preoccupi a questa situazione per la nazionale. È difficile la prima partita. L'Italia è un avversario rognoso per le cosiddette favorite. Guardate che anche l'Italia è favorita. Quindi è rognoso per la Spagna rognoso per la Germania. Oggi in Inghilterra si è dimostrata squadra perché perdeva 1-0. La Slovacchia l'ha messa in difficoltà perché vincevano 1-0. Nel secondo tempo hanno dimostrato squadra. Ha giocato con un altro ritmo. Con un'altra velocità hanno riportato il suo stato 2-1. Hanno vinto 2-1 alla fine. Ma anche l'Inghilterra sta facendo molto bene nel settore giovanile. Però l'Under 20 a me è piaciuta di più l'Under 20 che l'Under 21 di oggi. Sono tutti giovani. Infatti l'Under 20 è il campione del mondo. Vito il mondiale. Dove l'Italia è arrivata terza. Comunque questa Italia ha ragione Ventura secondo me fra qualche anno 4-5 anni per 7-8-11 potrebbe essere la Nazionale Azzurra. Infatti parlavamo che ha dato a questa prestazione un po' di preoccupazione per la Nazionale Maggiore. Noi partiamo da Donnarumma 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 insomma Comunque il reparto difensivo è stato compatto nella partita di ieri è stato peggio la prestazione offensiva che difensiva Franco Nella nostra l'Under 21 parli Ma guarda io ho visto Petagna che si è fatto veramente un mazzo da solo lì davanti e i due gli hanno dato poco appoggio sia Bernardeschi che Berardi Nel momento in cui è entrato Chiesa ha spaccato la partita perché ha cominciato ha cominciato a creare la solidarietà numerica quello che gli altri due praticamente Bernardeschi si accentrava sempre Berardi giocava quando gli aveva la palla non andava mai a cercarla e quindi gli sono mancati anche il supporto a questo ragazzo qui è entrato Chiesa che gli ha aiutato Bernardeschi ha praticamente è cresciuto molto gli ha dato una mano e poi praticamente l'ultima mezz'ora ha fatto anche una buona gara Potremmo commentare la partita ancora per molto però il tempo stringe stiamo in chiusura e come sempre Stefano ha preparato i contributi del meglio e il peggio Sì abbiamo dei contributi partiamo con una cosa i tifosi del Pordenone dovrebbero cambiare canale o andare a dormire no scherziamo perché sappiamo che la ferita è ancora aperta però è stato fatto un video audio del discorso di Lucarelli prima di Parma Alessandria con il Parma che è tornato in Serie B sentiamolo molto bello Cosa vuoi dire? Da fuori c'è tutto quello che siamo noi c'è sofferenza c'è paura c'è sudore c'è sacrificio c'è tutto quello che ci ha portato a giocarci questa partita oggi la Serie B è là fuori 90 minuti dove dobbiamo dare tutto quello che c'è ogni energia ogni forza tutto quello che è rimasto lo diamo oggi e dove non arriviamo con le gambe ci arriviamo con il cuore perché ce lo meritiamo perché siamo un gruppo vero abbiamo mangiato merda tutto l'anno per arrivare qui e ora bisogna farli difendere tutti un'ultima cosa non so se avrò la possibilità di ritrovarci io quindi vi dovete fa un po' a me oggi mi dovete portare in Serie B una per tutti tutti parma che ce l'ha fatta battendo l'Alessandria seccamente 2 a 0 Bordenone che purtroppo ha tanti rimorsi per come è andata la semifinale poi ancora è lui al centro lo facciamo sentire eccolo qua è sempre lui però è notizia del giorno che verrà sbattuto fuori di nuovo forse per quelle dichiarazioni su Dybala abbastanza infelici ha detto che Dybala per crescere deve andare via dalla Juve però lui se la canta sotto il cielo la presa bene sembrava che poi si non è una frase così guarda no ma lui come è successo con Zidane Zidane è andato via a un certo punto dalla Juve ha preso un sacco di soldi la Juve ed è andato a Real Madrid Real Madrid è diventato ancora di più di quello che era la Juve è diventato veramente uno dei più grandi giovedori del mondo quindi si è affermato ancora di più rimane il fatto che Daniel Alves è un ottimo canterino assolutamente fa ancora altre immagini che ci faranno sorridere qui siamo nel campionato cinese dove succede di tutto ci sono degli ottimi portieri innanzitutto questa tra l'altro sfida tra Guangzhou e Shanghai siamo nel big match proprio del campionato cinese portieri saponette poi ci fa capire insomma la difficoltà di questo campionato il gol di Hulk che è spettacolare però fa tutto il campo praticamente questi due davanti non sono male Hulk e Oscar sono questi due in maglia rossa che duettano poi alla fine segna Hulk ma il campionato c'è i due brasiliani niente male non farebbero anzi tutte figure e poi non ci facciamo mancare nulla Barone visto che come al solito ci piacciono un po' le risse come al solito è successo di tutto non molto composti gli amici cinesi che qui se ne sono date di santa ragione per fortuna nulla di grave è finita la rissa con due o tre cartellini rossi da parte dell'arbitro che guardate lì attento li guarda tutti prende nota e poi comincia a espedere giocatori tra le tante proteste metà sono brasiliani altri sono cinesi questo è ovviamente molti molti che ovviamente vanno a usufruire degli ottimi stipendi che si prendono lì poi l'ultimo video che vi proponiamo qui altro che brutto qui è una cosa bellissima siamo in Irlanda con il Dundalk che qui questo giocatore si traveste manco fosse Francesco Totti qui va a dribblare tutti proprio ennesima finta Hop e poi la chiude così da 25 metri un bel portiere l'incrocio dei pali vabbè dai diciamo che effettivamente poteva fare di meglio però comunque bravissimo qui l'attaccante irlandese che giustamente si gode il suo momento di gloria chiudo con un assist che mi dà Gianni Daudine perché ecco qua prima il dovere ecco qua lo riconoscete qui buon marone Franco Causio prima il dovere e poi che c'è dopo il dovere ecco qua riesco ad andare di là e il piacere eccolo qua in piscina che mi sorseggia una bevanda speriamo un'alcolica ma dovrei trovare questa roba non lo so me le hanno mandate su whatsapp Gianni Daudine che salutiamo Gianni Daudine spettacolare la seconda foto diventerà la nostra immagine del profilo whatsapp a breve simbolo della trasmissione del lunedì allora questa immagine Franco e allora con queste bellissime foto salutiamo quello che è il nostro parterre perché ormai siamo arrivati in chiusura grazie per essere stato con noi e buonasera Franco Causio buonasera a tutti buonasera anche a Massimiliano Moras buonasera e grazie e grazie Guido Gomilato per essere stato con noi buonasera a tutti grazie ovviamente Stefano per tutti i contributi buonasera a tutti voi ovviamente ci rivediamo qui sempre con la nostra programmazione e grazie a tutti voi per essere stati con noi come sempre ogni lunedì su Udinese TV con Udinese Tonight buonanotte